salve a tutti sono raffaele colaizzo con questo incontro iniziamo il modulo sul monitoraggio di programmi e progetti cofinanziati dal fondo sociale europeo plus in particolare questo incontro è dedicato al monitoraggio finanziario fisico e procedurale di programmi e progetti definizioni e regole essenziali il modulo sarà imperniato in quattro punti e quindi parleremo dopo aver affrontato le tematiche più generali su definizioni e regole parleremo di dati indicatori e target dell'fs plus vedremo quando servono i dati del monitoraggio in particolare per alcune tappe essenziali del ciclo di vita dei programmi 21 27 e vedremo quali sono basi dati e sistemi informativi per il monitoraggio degli interventi del fondo sociale europeo plus gli obiettivi del modulo complesso sono rafforzare la capacità di orientarsi nel sistema di regole e strumenti per il monitoraggio dei programmi e progetti cofinanziati dal fondo sociale europeo plus un altro obiettivo è chiarire a cosa si regolano i dati di monitoraggio nell'ambito dell'attività di gestione dei programmi e inoltre a scopo di trasparenza nell'uso dei fondi comunitari e il terzo obiettivo è inquadrare il funzionamento dei sistemi informativi sui fondi a livello locale nazionale e comunitario partiamo allora da alcune definizioni generali cos'è il monitoraggio dei programmi ecco nel nostro contesto il monitoraggio consiste nella osservazione dell'esecuzione di un programma finanziato dai fondi il monitoraggio è parte di un'attività più generale l'attività di sorveglianza che riguarda l'accertamento della qualità dell'attuazione dei programmi l'analisi dei progressi dei risultati ottenuti l'individuazione di miglioramenti da portare al processo di implementazione ecco ad esempio nell'ambito dell'attività di sorveglianza oltre al monitoraggio ricade anche un'attività importante come quello della valutazione indipendente dei programmi cosa riguarda questa osservazione questo monitoraggio dell'esecuzione dei programmi riguarda da una parte le procedure di attivazione dei programmi ad esempio le procedure relative a bandi avvisi oppure alla selezione di progetti a titolarità dell'amministrazione che gestisce il programma quindi da una parte procedure di attivazione dall'altra parte osservazione delle singole operazioni finanziate operazioni o progetti operazioni è la definizione che diciamo noi diamo secondo il lessico comunitario le singole operazioni rappresentano l'unità minima di monitoraggio poi aggregando i dati delle singole operazioni per azione per obiettivo specifico per priorità arriviamo a ricostruire l'informazione complessiva per il programma è importante dire subito questo poi lo vedremo anche esaminando le prossime slide ma è importante dire subito che l'osservazione dei dati è continua nel tempo e quindi accompagna l'esecuzione progressiva del programma il monitoraggio riguarda tre ambiti fondamentali l'esecuzione finanziaria in questo caso noi ci occupiamo della consistenza e dell'avanzamento nel tempo dei valori finanziari caratteristici del programma quindi parliamo di importi programmati attraverso le varie procedure di attivazione come gli avvisi pubblici gli importi impegnati che possono essere importi contabili o giuridicamente vincolanti e fra breve entreremo nel merito di queste definizioni possono riguardare la spesa sostenuta i pagamenti per l'esecuzione delle operazioni possono riguardare la spesa certificata alla commissione europea ripeto queste definizioni questi temi fra poco li chiariremo quindi primo ambito fondamentale l'esecuzione finanziaria secondo ambito l'esecuzione fisica il monitoraggio riguarda anche le realizzazioni che vengono prodotte attraverso l'attuazione delle operazioni ad esempio parlando di fondo sociale il numero di partecipanti che vengono trattati nell'ambito delle diverse misure ad esempio relative alle politiche attive del lavoro relativi alla formazione e il monitoraggio riguarda inoltre i risultati che queste realizzazioni determinano ad esempio i termini di tasso di occupazione delle persone che hanno frequentato di corsi di formazione o che sono state in azione di politiche attive del lavoro il terzo grande ambito è quello dell'esecuzione procedurale in questo caso il monitoraggio verifica il progresso delle procedure di attuazione sia dei programmi sia dei singoli progetti ad esempio verificando le dati di approvazione di avvio di esecuzione di conclusione e il monitoraggio in questo caso ha la funzione fondamentale di misurare gli scostamenti rispetto ai cronogrammi ovvero gli scostamenti delle date effettive rispetto a quanto era stato previsto questi scostamenti naturalmente permettono di mettere in campo delle azioni di miglioramento dell'efficienza e della tempestività dell'attuazione adesso per chiarire i flussi di informazione in particolare con riferimento al circuito finanziario proviamo a commentare questo schema che è uno schema abbastanza semplificato però ci dà delle informazioni utili un po a capire quali sono le relazioni che si si determinano insomma fra i vari attori dell'esecuzione dei programmi e quindi ci permette anche di capire meglio che cosa il monitoraggio osserva ecco immaginiamo parliamo un po dal basso nello schema immaginiamo che un certo beneficiario stia attuando un progetto nel caso specifico insomma è facile immaginare ad esempio un progetto di opere pubbliche e che abbia effettuato l'affidamento dei lavori ad un realizzatore ovvero nel caso specifico a un'impresa che realizza i lavori pubblici ecco man mano che si prosegue nell'attuazione i realizzatori trasmettono ai beneficiari le informazioni sullo stato di esecuzione materiale delle operazioni questo è un primo flusso che va dai realizzatori ai beneficiari i beneficiari danno questa informazione trasmettono questa informazione all'autorità di gestione e utilizzano questi dati anche per elaborare le domande di pagamento per stato di esecuzione quindi i beneficiari chiedono le somme corrispondenti allo stato di esecuzione dell'interronto ecco l'autorità di gestione che ha in possesso adesso queste informazioni le aggrega e fa diverse operazioni un'operazione è quella di trasmettere l'informazione sull'esecuzione alla funzione contabile la funzione contabile che nel 1420 era chiamata autorità di certificazione adesso c'è una differenza terminologica però sostanzialmente le funzioni sono quelle la funzione contabile certifica queste spese e trasmette le domande di pagamento alla commissione europea la commissione europea riceve le domande di pagamento versa la quota di cofinanziamento comunitario all'igrue che è un ispettorato generale della ragioneria generale dello stato l'igrue affianca alla quota di cofinanziamento comunitario la parte nazionale il cofinanziamento nazionale e trasferisce questi fondi all'autorità di gestione che a sua volta li trasferisce ai beneficiari che a loro volta lo trasferiscono ai realizzatori naturalmente stiamo facendo insomma stiamo commentando uno schema dei passaggi molto semplificati ecco l'autorità di gestione utilizza i dati trasmessi da beneficiari anche a scopi diversi innanzitutto prende disponibile l'informazione sull'attuazione al comitato di sorveglianza alle strutture interne la funzione di controllo di primo livello e all'autorità di audit per i controlli di secondo livello inoltre e questo lo vedremo con maggior dettaglio fra breve l'autorità di gestione elabora e trasferisce i dati sul programma secondo le specifiche del sistema nazionale di monitoraggio l'igrue in particolare raccoglie i dati prodotti da tutte le autorità di gestione e quindi ha una panoramica complessiva sullo stato di avanzamento dei diversi programmi adesso possiamo entrare nel merito di alcune variabili della definizione di alcune variabili fondamentali ecco questa tabellina si riferisce all'avanzamento complessivo dei programmi 2014 2020 in particolare al 30 giugno 2023 dove troviamo questi dati in una pubblicazione dell'igrue che abbiamo appena nominato insomma abbiamo cominciato un pochino a inquadrare le sue funzioni ecco l'igrue quindi ha aggregato tutti i dati provenienti dalle varie autorità di gestione e ci restituisce questa fotografia complessiva dello stato di esecuzione ecco che qui noi vediamo delle variabili tre variabili in particolare fondamentali il primo è il valore dei programmi qui abbiamo una classificazione per categoria di regione e per tipologia di programmi che sia un programma operativo nazionale un programma operativo regionale ricordiamo che qui stiamo parlando il 2014 2020 ecco naturalmente anche il valore dei programmi può cambiare non è dato una volta e per sempre ma può cambiare attraverso le riprogrammazioni naturalmente il monitoraggio delle variabili finanziarie deve tenere conto di questo una parte del valore dei programmi è rappresentato dal contributo dell'unione europea e qui viene rappresentato quale sia questo contributo abbiamo poi il valore che riguarda gli impegni in questo caso l'igrue ha aggregato nel sistema nazionale di monitoraggio aggregato tutti i dati che provengono dalle singole autorità di gestione e quindi è in grado di restituire questo dato complessivo sugli impegni e che sono gli impegni noi diciamo che gli impegni giuridicamente vincolanti sono misurati al livello dei beneficiari dei progetti e si manifestano nel momento in cui il beneficiario contrare un obbligo verso un cosiddetto realizzatore e quindi si impegna in modo giuridicamente vincolante a pagare il beneficiario nel momento in cui la realizzazione sarà compiuta i pagamenti sono rappresentati dalle spese sostenute dal beneficiario del progetto ecco tutte queste variabili sono importanti per il monitoraggio finanziario i pagamenti sono la variabile più importante o più rilevante nel senso che i pagamenti sono l'unica variabile che determina l'applicazione della regola sul cosiddetto disimpegno automatico quindi è la informazione fondamentale che gli stati membri danno alla commissione europea e appunto quello relativo ai pagamenti quindi alle spese effettivamente sostenute a livello dei beneficiari ecco naturalmente qui abbiamo anche degli indicatori di avanzamento nel caso specifico gli impegni rapportati al valore dei programmi i pagamenti rapportati al valore dei programmi per esempio qui vediamo che gli impegni sono il 90,3 per cento circa dei valori dei programmi i pagamenti sono circa 65 per 100 questo a livello quindi complessivo di programmi informazioni utili ci vengono anche dall'esame di questa tabella che invece riguarda l'avanzamento del programma del fondo sociale europeo 2014-2020 della provincia autonoma di Bolzano questi dati in particolare li abbiamo ripresi dalla relazione annuale del 2022 ecco qui vedete come per ciascun asse prioritario noi abbiamo queste variabili oltre naturalmente al numero di operazioni selezionate abbiamo la variabile che riguarda il costo totale ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno abbiamo la quota della dotazione complessiva coperta dalle operazioni selezionate la spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno la spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione e abbiamo anche l'indicatore la quota della dotazione complessiva coperta dalla spesa ammissibile dichiarata dai beneficiari cioè la spesa effettiva i pagamenti che sono stati rilevati al livello dei beneficiari e che costituiscono appunto la variabile come abbiamo detto un po' chiave in particolare nell'informazione che viene data alla commissione europea tutte le variabili finanziarie sono importanti però i pagamenti sono quelli che effettivamente danno l'informazione più concreta sull'esecuzione del programma e che poi questo lo vedremo in un prossimo incontro determinano in particolare l'applicazione della regola del disimpegno automatico ecco quando noi parliamo di progetti noi troviamo dei dati di monitoraggio finanziario che riguardano sia il progetto nel suo complesso noi siamo interessati naturalmente a conoscere dati come il finanziamento complessivo il quadro economico il piano dei costi in fase di programmazione oppure come impegni e pagamenti in fase di attuazione ecco però c'è un altro punto di osservazione che è più come dire rilevante dal punto di vista dell'esecuzione del programma con questo secondo punto di osservazione ci fa monitorare il progetto rispetto all'acuta parte ammessibile al programma quindi il sistema informativo quando parliamo di progetti noi parliamo sia di progetti monitorati nel suo complesso sia di progetti monitorati rispetto all'acuta parte ammessibile al programma troviamo entrambe queste tipologie di informazione adesso come si fa come possiamo rappresentare il passaggio dall'esecuzione finanziaria all'esecuzione fisica dei programmi e dei progetti allora abbiamo parlato di risorse in particolare di risorse finanziarie queste risorse servono a realizzare delle attività attraverso ad esempio attraverso bandi o avvisi pubblici ad esempio un'attività è un percorso di formazione accompagnamento al lavoro disoccupato di lunga durata che viene realizzato utilizzando le risorse destinate a questo scopo questa attività produce degli output gli output sono le realizzazioni specifiche i prodotti di un determinato intervento rimanendo nel campo del nostro esempio sono i partecipanti che completano il percorso formativo e di accompagnamento questi output danno luogo a risultati che sono gli effetti degli interventi in particolare sui destinatari diretti e nel caso specifico l'esempio che stiamo facendo un risultato potrebbe essere il numero di partecipanti che trovano un lavoro regolare coerente con le competenze acquisite c'è poi un'altra variabile anche molto importante che è quella dell'impatto l'impatto non viene monitorato nell'ambito dei programmi operativi ma piuttosto un oggetto della valutazione dei programmi che cos'è l'impatto è un effetto più ampio di lungo periodo dell'intervento che può riguardare una platea anche più ampia dei destinatari diretti per esempio se noi valutando gli effetti di questo intervento di formazione accompagnamento a lavori disoccupati di lunga durata vedessimo che il tasso di disoccupazione di lunga durata in complesso si riduce allora ecco dovremmo dire che questo è un impatto cioè un effetto che riguarda una platea di destinatari più ampia di quello dei destinatari diretti a questo punto introduciamo anche il tema degli indicatori fisici diciamo già in parte abbiamo cominciato a chiarire questi termini gli indicatori di output non sono le realizzazioni prodotte dagli interventi come partecipanti all'intervento di formazione disoccupati presi in carico per il conseguimento di lavoro e così via gli indicatori di risultato misurano gli effetti degli interventi sui loro destinatari diretti abbiamo detto ad esempio partecipanti all'intervento di formazione che conseguono un'occupazione pertinente e così via nel 2021-2027 questi indicatori di output e di risultato possono essere o comuni gli indicatori comuni sono quelli indicati direttamente nel regolamento del FES e dell'FSE plus oppure possono essere indicatori specifici cioè degli indicatori che sono ad hoc individuati nei programmi ad esempio nei casi in cui gli indicatori comuni non permettono di rappresentare adeguatamente un intervento anche su questo poi torneremo con degli esempi concreti abbiamo detto il monitoraggio procedurale il terzo grande ambito di applicazione dell'osservazione del monitoraggio qui io posso fare riferimento al monitoraggio delle procedure di attivazione ad esempio verificare i tempi per la preparazione e approvazione dell'avviso la pubblicazione dell'avviso la ricezione delle candidature la nomina della commissione giudicatrice e così via naturalmente le fasi la definizione delle fasi dipende dalla tipologia dell'intervento che stiamo realizzando qui insomma ripeto siamo nell'ambito del monitoraggio delle procedure di attivazione il monitoraggio riguarda anche le procedure dei progetti anche qui naturalmente le fasi cambiano a seconda della tipologia dell'intervento che stiamo realizzando ecco ad esempio nel campo di un intervento relativo alle opere pubbliche le fasi sono quelle dell'avvio della progettazione il completamento dello studio di fattibilità del completamento del progetto esecutivo e così via fino alle fasi finali della chiusura del collado e dell'entrata in esercizio il monitoraggio deve tenere conto di tutto questo in particolare per ogni fase vengono specificati dei milestones cioè degli eventi critici che sono associati a date programmate il monitoraggio ci permette di dire quando questi milestones non sono eventualmente rispettati e ci permette di mettere in atto delle azioni correttive di miglioramento della tempestività e dell'efficienza del programma ecco quindi possiamo un po tentare di dare un quadro di sintesi abbiamo delle fasi che chiaramente sono delle fasi che sono distribuite nel tempo fasi di attivazione di inizializzazione del progetto di attuazione del progetto di conclusione del progetto abbiamo degli oggetti del monitoraggio ricordate è stato la prima slide che abbiamo commentato noi un oggetto del monitoraggio è la procedura di attivazione l'altro grande oggetto del monitoraggio è il progetto l'unità minima di rilevazione abbiamo poi degli ambiti che sono quelli della esecuzione finanziaria fisica e procedurale ecco naturalmente poi ci sono anche degli aspetti che riguardano l'anagrafica sia delle procedure di attivazione sia dei progetti cioè insomma le definizioni essenziali come possono essere per esempio per un progetto il cupo la localizzazione beneficiari e così via per ciascun ambito abbiamo ovviamente dei contenuti informativi che sono poi riversati sul sistema di informazione ad esempio quando parliamo di procedure di attivazione nell'ambito dell'anagrafica avrò la tipologia la base giuridica e responsabile dell'amministrazione quando parlo di ambito procedurale avrò l'informazione che riguarda il cronogramma quando parlo di ambito finanziario avrò l'informazione che riguarda la dotazione finanziaria ad esempio di un avviso e quindi insomma i vari contenuti informativi poi caratterizzano i diversi ambiti anche per quanto riguarda il progetto come oggetto di monitoraggio e lo caratterizzano appunto a seconda della fase in cui siamo in una fase di inizializzazione io avrò un quadro economico in piano dei costi nell'ambito finanziario avrò degli indicatori previsti di output e risultato nel campo dell'attuazione fisica a conclusione del progetto avrò il quadro definitivo dei costi e delle spese avrò i tempi effettivi del progetto a conclusione avrò gli indicatori effettivi di output e di risultato ecco con questo abbiamo concluso il primo incontro del modulo sul monitoraggio nel prossimo incontro entreremo più nel merito degli indicatori in particolare che riguardano il fondo sociale europeo plus